Deve avere la giusta spazzatura. Comunque faccio il grafico e queste cose non le sopporto. Com'è? Buona? Non vorrei che poi la comprate e poi dopo non vi piace, mi rifate rifare il progetto da capo. Ok, se dipendesse da Obelix, innanzitutto sono veramente molto contento di essere sul palco del TEDx perché io sono un grande appassionato di TED Talk, me li guardo da tantissimo tempo, mi piace il fatto che ci sia un sacco di idee e di cose che prendo, ascolto, le idee arrivano, si raccolgono e poi si danno ad altri, le idee non sono nostre, le idee vanno sviluppate. E poi mi piace tantissimo il TED perché è un po' come un concerto punk. Perché quando tu sali su un palco, non importa se sai suonare, è quello che hai nella testa che conta, l'idea che stai in quel momento portando fuori. E un altro tipo di TED che mi piace tantissimo è questo. Questo è stato il mio primo TED Talk da bambino. non sapevo leggere, guardavo le immagini e mia mamma mi raccontava delle cose. Ed effettivamente, se avete mai pensato, se ci fosse stato un link tra un concerto punk e vostra mamma che vi leggeva le storie da bambino, ok, il TEDx è questo. Quindi siamo di fronte alla forma proprio base della comunicazione. l'immagine è una persona che legge per conto tuo quello che ha da dire. E poi ci sono le idee. E le idee sono un mondo incredibile fatto di cose difficili da capire, difficili da intuire, che alle volte arrivano soltanto perché ci mettiamo lì a guardare le cose da un altro punto di vista. Le idee contro la creatività. In questo bellissimo libro di Bruno Munari che è una specie di mio vate di tutor illuminato che si intitola Da cosa nasce cosa lui prova a spiegare esattamente qual è la differenza tra le idee che spesso sono belle ma sono appunto delle idee certe volte sono irrealizzabili. È un po' come decidere di distruggere una montagna, ok? È difficile distruggere una montagna. La creatività invece non cerca di distruggere le cose. Appoggia l'idea ma cerca un modo creativo per salire su questa montagna. La creatività gira intorno all'ostacolo, gira intorno alle montagne, un po' come quelle stradine a cui arrivi un po' alla volta per arrivare nel villaggio che volevate. Queste sono delle calze da donna, le ho disegnate io. Ho fatto tutte le cose da solo. Sono delle calze da donna e una volta Bruno Munari, per questa cosa delle idee che sono un po' un certo modo di vedere le cose dall'altro punto di vista, arrivò, si racconta che Bruno Munari arrivò in questa fabbrica di calze da donna e disse al capo, tipo, voi avete mai fatto delle lampade? E il capo di questo calzottorificio dice, no, ecco, da ora le farete, perché Falkland è un'idea che avrebbe Bruno Munari prendendo la maglia, appunto, come mi suggeriva Sara, e come si chiama il tessuto delle calze, per creare poi queste lampade. da cosa nasce cosa, la creatività serve appunto per vedere gli oggetti, le calze da un altro punto di vista. C'è un'altra bellissima… non so se… avete visto Forrest Gump? Ok, grande. Io sono… non so se hai visto, ma sto andando un pochino… apro un sacco di parentesi, ma poi le chiuderò tutte. Ok, Forrest Gump c'è questa scena incredibile dove lui, a un certo punto del film, decide di fare avanti e indietro correndo per gli Stati Uniti e si avvicina a una persona con un grosso problema. lo so, ho detto che avrei riso sempre in questo momento, ma mi fa sempre ridere. Questo è un tipo che si è comprato uno stock di magliette gialle e non sa cosa farsene. E allora ha quest'idea di andare da lui a chiedergli un disegno, ma non sa disegnare, o una fotografia, ma non ha una macchina fotografica, perché ha questo bisogno di capire come destinare queste magliette. E non so se avete visto nel frame prima, passa un camion, sporca la faccia di Forrest Gump, gli dà una maglietta e dice tanto ce ne ho tante, e nell'impronta della macchia questo uomo vede lo smile e quindi da lì dice di aver creato poi un logo che è stato venduto dappertutto, che è appunto la faccina dello smile. Le cose non sono andate così esattamente, però è bello pensare che la creatività interviene durante gli errori o durante le casualità. Un altro esempio della creatività che mi fa impazzire è che è alla base del principio della cultura, perché la cultura cerca di vedere le cose da un altro punto di vista. ecco, uno dei concetti più interessanti, ci siamo seduti sopra. Cioè la Mola Eva Vitelliana una volta era un lazzaretto, è stato un scalomerci, era un'isola, non aveva niente a che fare con auditorium, concerti, mostre. Io la mia prima mostra qui alla Mola Eva Vitelliana è stata Enzo Cucchi, avevo 18 anni, la macchina, e mia mamma mi aveva dato i soldi e avevo comprato anche il catalogo. e quindi le cose si trasformano, le cose hanno un'altra vita, da cosa nasce cosa, e qui appunto siamo arrivati al motivo perché sono su questo palco. Se dipendesse da Obelix, ok? Tu mi dite, adesso vuoi provare ad allacciare tutte le cose un po' alla volta. Se dipendesse da Obelix perché quando ero piccolo e mia mamma non mi faceva un TEDx, ok? Mi facevo un TED da solo, mi facevo un personale. Mi prendevo Asterix e me lo leggevo, non sapevo leggere, però me l'aveva raccontato così tante volte e che ormai sapevo la storia, quindi me le guardavo da solo anche se non sapevo leggere. E questa cosa mi ha fatto sempre pensare a un altro modo, a un nuovo modo per vedere le storie di Asterix e Obelix. Conoscete tutti Asterix e Obelix? Sì, però si vede che l'aria condizionata non funziona. Datemi un sì un po' più orgoglioso di conoscere le storie di Asterix e Obelix. Allora, Asterix e Obelix sono delle storie bellissime, francesi, dove Asterix è il protagonista. E io da piccolo mi sono sempre immedesimato in Asterix. Perché? Perché Asterix è proprio esattamente quello che noi vogliamo essere nelle storie. L'eroe, il personaggio principale, quello che ha le intuizioni, quello che sa capire prima gli inganni, quello che poi sconfigge il nemico. Ma in realtà, poi guardatelo, mentre scrivevo sto talk, è anche biondo. Cioè, tutti da ragazzi mi hanno cercato, no? Quanti di voi mori e avrete voluto essere biondi, no? Alzate la mano. E invece poi, nella vita reale, noi non siamo Asterix. Noi nella vita reale siamo Obelix. E Obelix è tutto quello che non è Asterix. Obelix si innamora, Obelix piange, Obelix ha i problemi. Obelix è veramente un personaggio molto più complesso di Asterix. Asterix in trenta episodi non piange mai, non ha mai una disperazione che non si ha, perché il processo della trama non si svolge. E ti dirò di più, Asterix non si innamora mai. Ok? Questo era per ricordarvi, appunto, perché Obelix è differente da Asterix. Perché, appunto, Obelix è caduto nel paiolo, cioè che è una pentola gigante di pozione magica. Sapete, no, questa cosa? Non la ve la devo ripetere, ok? Perché sono nove minuti. Guardate, questo mi fa impazzire. Quando Obelix dice il guaio è che sono timido, dopo aver ammazzato di botte un gruppo di romani che si erano seduti su quei fiorellini che voleva dare a Falbala, che poi, in realtà, come lui vedete, gli dà questi fiori, poi scopre che il suo fidanzato, Tragicomix, che è bellissimo già il nome, Fumetto Tragico, e quindi piange perché, appunto, mamma, sono infelice. Perché, appunto, in questo momento lui è innamorato e non sa come gestire questa emozione. Poi quali altri problemi ha Obelix? Ad esempio, in questo episodio, a fianco, Cesare, in una delle sue tante imprese, cerca di fare dei soldati femmina, per cui lui non può fare a botte con le donne, quindi è infelice perché pensa di non servire più a niente, non servo più a niente. Oppure, come tutti noi, quando ci guardiamo allo specchio pensiamo sempre di essere troppo grossi, no? Troppo cicci, ci guardiamo male, però... E Obelix ha questo problema che pensa di essere magro. Ok? E questa è un'altra delle situazioni in cui mi fa impazzire perché in questo episodio Asterix capisce cosa sta succedendo, e Obelix no. Obelix è fuori proprio da intuire cosa sta succedendo. E poi si fa vicino ad Asterix e dice, sì, però dopo mi spieghi cosa è successo. Perché io, sai, quando combatto almeno vorrei sapere per quale idea sto combattendo in questo momento. Però, dicevamo prima, Obelix ha la pozione magica dentro di sé, lui non la deve assumere, lui è caduto nella pozione magica, per cui Obelix di per sé è sovrumano e lui ha i superpoteri. Volendo, lui potrebbe aspettare che Asterix finisca di bere la pozione magica, finiscano gli effetti della pozione magica su di lui, ok? E poi potrebbe sconfiggerlo. Può. È Obelix. Obelix ha i superpoteri. Quindi, non solo, potrebbe sconfiggere Abraura Quarchix, che è il capo del villaggio, ok? Attraverso il duello dei capi, diventare il capo del villaggio, attaccare i quattro accampamenti fuori dalle mura, Babaurum, Laudanum, Pettibonum, e l'ultimo non me lo ricordo, Aquarium, perché sono un po' emozionato, potrebbe prendere anche il controllo di questi quattro accampamenti, ok? E poi cosa fare? Espandersi, arrivare a Condate, poi a Lutezia, che sarebbe Parigi dell'epoca, riunire tutte le tribù galliche in un unico e solo capo, Obelix. E poi, una volta che tu sei il potere in assoluto nel mondo, tu che hai superpoteri, perché no? Attaccare l'impero romano, arrivare fino a Roma, destituire Cesare e diventare tu stesso Cesare. E invece, cosa fa Obelix? Obelix fa Menhir. Obelix è uno scultore. Obelix, coi suoi superpoteri, fa delle cose che ancora oggi gli studiosi di archeologia non sanno che cosa servono. Pensateci, guardate questa immagine, l'ho dovuto ridisegnare perché non volevo scrivere il copyright, ok? Stonehenge è fatto di tanti Menhir, dolmen e Menhir, che ancora oggi non sappiamo a che cosa esattamente servono, ok? Quindi, Obelix è uno scultore e coi superpoteri fa delle cose che non si capiscono. E che sono le cose che noi non capiamo e sono gigantesche e di solito ce le mettono nelle piazze? L'arte contemporanea, ok? Obelix, con i superpoteri, fa arte contemporanea. Ok? Questo è Calder e là c'è Brancusi. Ho scritto C Calder e ieri sera stavo scrivendo B Brancusi. Quindi, riassumendo, se ha i superpoteri, Obelix potrebbe diventare Cesare e invece Obelix, con i suoi superpoteri, decide di fare arte. Quindi, chi ha i superpoteri, fa arte. E il messaggio? Dove lo mette il messaggio? Infatti, questa puntata è bellissima perché Asterix deve riempire quel paiolo di soldi, però decidono di fare teatro e a un certo punto Obelix è preso malissimo perché in quel momento sta dicendo E il messaggio? Dove lo metti il messaggio? Lui deve salire sul pacco e dire qualcosa, però non ha niente da dire, ok? E allora lo dico io al posto di Obelix. Se dipendesse da Obelix non ci sarebbe la guerra, perché Obelix non farebbe la guerra e con i superpoteri si fa arte. Grazie Applausi Grazie 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 Grazie